Sera San Bruno è di montagna. Un'attrazione che mi piace di più sono le case, che mia madre dice sempre che sono dei salottini. A Sera San Bruno c'è il bosco della Ciertosa. Vanno molte persone a vedere San Bruno, soprattutto e mangiarsi un gelato qualche volta. Le persone vanno a visitare San Bruno e gli mettono i soldi. È una specie di casa, no? Dei ciertosini. Che ogni giorno, ogni sera pregano. L'inverno voglio rimanere qua, invece l'estate voglio uscire a fare shopping. Possiamo dire che siamo tutti parenti, perché alla fine, se qualcuno viene a salutarci, siamo amici, alla fine si scopre che siamo parenti. Che se ne sembra un posto allegro, è la mia casa. Che se ne sembra un posto allegro, è la mia casa. Che se ne sembra un posto allegro, è la mia casa. Che se ne sembra un posto allegro, è la mia casa. Allora si mette 800 grammi di farina, 5 uova, 70 grammi di zucchero, latte e vanillina. Lo latte. Lo zucchero. Le uova. Eccola qua, l'ho trovata, la farina. Si impasta, si prende un pezzo di pasta, si fila. Si fa la forma di filo, si... Allora bisogna preparare l'impasto, prendi un pezzo di impasto e lo fili. Dopo che lo fili lo premi bene su una cucchiaira, lo giri tre volte. Poi prendi la finale, la porti di sopra, lo attacchi un altro volto, hai tre giri, poi lo giri di sopra e lo togli. Lo giri di sopra e di sotto e lo metti a frizzere. Buongiorno, 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 ciao, 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 ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora cosa dobbiamo iniziare a mettere? La farina. Allora, ora mettere la farina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono bravissimi. Bisogna riunirla e lavorarla con le mani. Dopo dieci minuti, un quarto d'ora, la apri, se ha le bolle vuol dire che è pronta e si può cominciare il lavoro. Se non ha le bolle vuol dire che va lavorata ancora di più. E poi prendiamo un pezzo di pasta se ha le bolle e questo pezzo di pasta la facciamo in filo. E poi? Dopo bisogna prendere un cucchiaio, poi girarla tre volte. Quattro, due, tre. Prendi questo, questo lembo. Bisogna salderlo prima. Ok, dovrebbe essere fatto. Cerchiamo di ristricarlo e schiacciarlo sul tavolo piano piano. E poi delicatamente si cerca di toglierlo il manico del cucchiaio. E abbiamo pronta la navetta che dopo è pronta per essere finta. Allora ragazzi andiamo a friggere? Sì, sì. Venite, che l'olio se non si brucia. Piano. Buono, niente. Sì, meglio. Qua, qui, 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 non ti preoccupare. Un'altra soltanto, dai. Va bene così. Buono, ragazzi! Io al bisogno. Buono, ragazzi! Grazie a tutti.